dei dati, dei numeri tra il reale e l'obiettivo che mi danno due vantaggi. Numero uno, mi si accendono i semafori, quindi nelle aree dove io sono rosso, cosa faccio? Intervengo, quindi vado in azioni non dove piaccia a me, ma dove i numeri mi stanno parlando e mi stanno dicendo, Michele devi lavorare di più su quest'area qua, il messaggio che stai dando nel funnel non è al momento efficace, questo è il primo obiettivo, quindi nel primo lancio, cosa che molto spesso gli imprenditori vorrebbero subito risultati subito, ma in realtà il primo obiettivo è capire il mercato cosa ci dice.